Buongiorno, siamo Panaglionis dalla Società Icarus S.R.E.L.I.R.I.M.I.N.I. Noi siamo i rappresentanti della società tedesca VDI che fa valvole per Maticenio, della Vitcovici che fa bombole alla pressione, dalla Vandetti e della Megavit. Oggi qui dal forum vi presento la nuova valvola della VDI che è una valvola che può essere sia per l'applicazione di CO2 dei Gasi Lerdi di All Carbon. Il suo vantaggio è che è molto compatta e può avere tutte le possibili attuazioni. Qui in particolare abbiamo l'attuazione solidoide che come possiamo vedere smontandola, la valvola e la bombola carica possono essere trasportate facilmente su un cappellotto tradizionale che occupa poco spazio e di conseguenza anche piccolo costo. Eccoci. E questa è la novità della VDI. Dal forum a Milano, grazie. 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 Grazie.